Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali ritorna il campionato e si prepara alla ottava giornata di questa stagione che sembra quanto mai incerta nei suoi esiti e soprattutto nelle capacità delle squadre più importanti e più in vista di avere una continuità di percorso. Un campionato, dicevamo incerto, un campionato che quest'anno probabilmente non avrà la lepre che scappa e parte. In questo senso si stanno cominciando a sprecare le opinioni di molti addetti ai lavori sulla possibilità che il Napoli di Conte possa diventare quest'anno una delle favorite, anzi la favoritissima alla vittoria finale perché la squadra azzurra non ha impegni europei. È vero che Conte ha sempre privilegiato i campionati e lo testimoniano le sue vittorie, cinque scudetti, ma bisogna anche riconoscere che le altre formazioni, a cominciare dall'Inter che deve difendere lo scudetto, alla Juve che ha fatto un mercato sontuoso, sono sicuramente dotate di roster molto più ampi in grado anche di poter sopportare il doppio impegno settimanale con la Champions della nuova formula voluta dall'UEFA. Un'ottava giornata che si presenta molto interessante, soprattutto alla luce degli esiti quanto mai positivi della nazionale nel doppio impegno con Belgio e Israele. Una nazionale che pian piano Spalletti sta ritornando e ritrovando a livelli di gioco piacevoli, a tratti anche devastanti nelle azioni che riesce a creare e che pertanto è un buon viatico per quelle che saranno le qualificazioni ai mondiali che potrebbero vedere l'Italia al sorteggio in prima fascia se dovesse confermare l'attuale posizione nella Nation League. Ma torniamo al campionato, partite interessanti e per dirla all'Eduardo gli esami non finiscono mai, non finiscono mai per il Milan che affronterà l'Udinese in una situazione di classifica veramente strana perché l'Udinese si presenta con 13 punti e con un tecnico, Runiac, che sembra aver portato una linfa nuova e soprattutto una mentalità nuova nella squadra friulana e il Milan con 11 punti è a due punti di distanza dalla Udinese. Una partita quindi che per Fonseca è l'ulteriore esame, è in bilico il tecnico rossonero, noi non vogliamo pensare che ci sia già la volontà da parte della proprietà milanista di Cardinale di voler cambiare tecnico, di voler cambiare un allenatore che comunque ha fatto bene e che purtroppo, però forse per la debolezza societaria, i quadri societari del Milan non sono ben definiti e lo stesso Ibrahimovic che va e che viene, poi torna, parla alla squadra, dovrebbe probabilmente dare più continuità al suo modus operandi proprio per il carisma che lo contraddistingue e la capacità di convinzione sui giocatori giocatori che, soprattutto due, Leao e Theo Hernandez, sembrano soffrire molto il rapporto con Fonseca. L'allenatore portoghese, secondo noi, è una onestissima persona e soprattutto un bravo professionista. Aver sentito dire da Leao che il nazionale ha brillato qui praticamente ho la fiducia del tecnico è chiaramente un appello, se non una sorta di velata sconfessione di quello che è il suo rapporto con Fonseca. Ma i giocatori sono dipendenti delle società. Fonseca dovrebbe avere l'avallo totale da parte della società per poter proseguire. Un discorso che in determinate partite lo ha visto anche eccellere. Vedi, per esempio, il brillantissimo derby contro l'Inter. Juve Lazio, altro scontro importantissimo che si terrà domani sera alle 20.45 e che vede la Lazio che è diventata improvvisamente la mina vagante, la sorpresa di questo campionato, con un allenatore che all'inizio forse era troppo sottovalutato e con un mercato che è stato sicuramente sottovalutato ma che bisogna dare atto a Fabiani è stato di grande concretezza. Vedi la conferma di Castellanos, l'acquisto di Dià e soprattutto l'esordio in campionato italiano di quel Tavares che è diventato un uomo assist importante giocando sulla sinistra, hanno rilanciato la Lazio delle posizioni alte della classifica e domani sera ci sarà una sorta di spareggio all'Allianz Stadio contro una Juventus che in un certo senso ha un po' deluso ma soprattutto in casa, dove i pareggi sono stati troppi effettivamente per le qualità del roster della squadra di Tiago Motta e dove praticamente la squadra non sempre è riuscita a trovare la chiave per aprire le munite difese avversarie. Dovrebbe essere una partita aperta perché Castellanos e Dià sono una coppia d'attacco che sta facendo molto bene in maglia bianco-celeste mentre la Juve dovrà soffrire le assenze di giocatori come Bremer, Nico González, Kupmeiners, McKennie e spera di ritrovare un oggetto misterioso in campo probabilmente dal primo minuto come Douglas Lewis. Una partita sicuramente importante, come è importante poi la partita di domenica sera che all'Olimpico di Roma vedrà impegnate Roma e Inter. È una sorta di scontro derby tra le milaniste, le milanesi e le romane. Roma e Inter è anche lì per Iuric un ulteriore esame. C'è già chi sta criticando l'operato del tecnico e soprattutto non è convinto della bontà della squadra nel modo in cui si propone in campo. Bisogna capire cosa vorrà fare però l'Inter di Simone Inzaghi che ha ripreso a marciare bene nonostante uno dei pareggi che più l'hanno fatto soffrire nelle ultime giornate ma c'è da dire che è una partita a nostro giudizio aperto con Turam e Lautaro Martinez, coppia d'attacco dell'Inter campione d'Italia e dall'altro Dovbic e Dybala che verrà rilanciato dal primo minuto da Iuric. Finiamo con Empoli-Napoli. Empoli-Napoli è una partita che vede la capolista impegnata su un campo che mai le ha detto bene o quasi mai le ha detto bene. Quattro sconfitte nelle sette gare degli ultimi dieci anni disputate a Castellani e soprattutto quest'anno un Empoli che ha perso una sola volta proprio nell'ultima giornata prima della sosta contro la Roma. Il Napoli ha due occasioni Empoli e poi in casa con Lecce prima di dover affrontare un trittico terribile con Atalanta al Maradona e poi un nuovo ritorno a Milano contro l'Inter. È tutto da vedere questa ottava giornata che potrebbe darci delle altre piccole nuove indicazioni per quello che sarà il prosieguo del campionato fino alla prossima sosta del 17 novembre per gli ultimi impegni della Nazionale. Sergio Curcio per Sempre News.